E adesso una notizia molto calda da Ucio o Ucio o Uco, fate come vi pare, è un marchio che è già presente su Firepaco, il nostro reparto tutto fiamme, dai ragazzi dei fiammiferi molto 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 lunghi, sono fantastici per accendere tutti quegli accessori, quegli strumenti che necessitano di un po' di tempo perché bruciano fino a 60 secondi, sono ottimi per il barbecue, se state cercando dei fiammiferi d'emergenza o da sopravvivenza non sono loro, non sono questi, li produce sempre Ucio, li trovate sempre su Backpaco, dategli un'occhiata, ve li lascio qui in descrizione, questi sono invece dei fiammiferi fatti davvero bene che bruciano fino a 60 secondi ma che sistemerei un po' nell'ambito dei fiammiferi domestici o per chi festeggia dei compleanni con tantissime candeline e deve accenderle tutte con un fiammifero. Ecco potreste fare un po' una gara, provare ad accendere tutte le candeline della nonna con un singolo fiammifero. Voi portate uno di questi e al cugino antipatico ne date uno di quelli classici, normali, così vediamo chi vince. Nella confezione ne arrivano 50, direi che per un po' siete coperti.